signore e signori buonasera dal teatro abc di catania va in onda di nuovo insieme presenta salvo la rosa buonasera ben trovati grazie per questo applauso che vi arriva dal teatro abc di catania per l'esattezza da casa mia che è diventata ormai da tempo la sede di una nuova trasmissione che si intitola di nuovo insieme che vi fa compagnia tutte le settimane su tgs e su rtp ma anche in streaming anche sui social anche su un canale nazionale insomma seguiteci sempre con affetto anche perché siamo arrivati quasi alla conclusione di questa seconda serie oggi per l'esattezza è la terz'ultima puntata e sarà come sempre molto ricca di divertimento di colpi di scena per cui mettetevi comodi a casa vostra e seguiteci sempre con l'affetto che ci dimostrate anzi vi chiedo veramente un grande applauso che il nostro grazie il grazie di tutta la produzione al grande pubblico che segue di nuovo insieme grazie a tutti quanti voi e allora il protagonista accanto a me di questa trasmissione è ovviamente il signor Litterio Scalisi che da un momento all'altro dovrebbe arrivare qui sul nostro palco di scena eccolo qua eccolo qua signor Litterio buonasera buonasera signor Laroglio buonasera signor Litterio io sono signor Litterio ho capito che lei la vedo ma perché sta parlando così scusi ma perché come stai parlando appunto sta parlando in questo modo dopo tanto tempo mai ci ho preso l'abitudine Udine 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 si Udine Trieste ma che cosa che abitudine ha preso eh niente signor Lavoro signor Larosa lei deve sapere che a mia dopo che mi hanno accordato il reddito di paesanza si me lo ricordo il reddito di paesanza perché lei vive al paese invece se viveva al villaggio era un reddito di videnanza esatto va bene quindi me lo ricordo il mio reddito di paesanza e poi mi è arrivata una lettera che il navigatore si il navigatore ma trovavo un travaglio mio ah che bello questa è una bella notizia è giusto c'è no come chi di casa mucca con un reddito di cittadinanza giusto che stanno cagliando a cavallo senza fare niente esatto a mia mi hanno trovato un lavoro si un lavoro di fare l'ecologista ah l'ecologista l'operatore ecologico quindi nel campo della raccolta dei rifiuti no? no che c'è operatore ecologico no? non c'è niente da male ma no ma per carità io dovevo fare l'ecologo l'ecologo lei deve fare l'ecologo? l'ecologo 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 non lo capisco l'ecologo si praticamente a mia mi hanno chiamato per andare a lavorare nel parco archeologico insomma due mesi che a travaglio nell'orecchio io a Torino a Torino a Torino a Seracusa ah il parco archeologico di Seracusa quindi lei sta facendo la guida turistica no per capire una cosa ma scusi non la capisco osa osa no signora Rosa io ho andato là perché dovevo fare l'ecologo l'ecologo appena io arrivai mi sono subito presentato nel sottotenente ah ho capito nel soprintendente nel sopratenente mi ci ho presentato no vabbè soprintendente perché così mi avevano detto ti ho presentato il soprintendente e quello mi ha spiegato che io da un poco di tempo che l'orecchio di Dionisio non funziona buono lei è sicuro che l'orecchio di Dionisio non sta funzionando e non rispondeva più bello lillo lillo ho capito come una volta che ora ecco cioè i turisti non ci andavano più era male frequentato poco frequentato non ne sapevo niente giuro allora ci mettiamo uno che fa l'ecologo di dietro ah ho capito cos'è l'ecologo ho capito ha capito fa l'eco sì ho capito sì a me mi piaceva mi ho trovato bene specialmente quando veniva uno gli innamorati certo sì amor facciamo che amor perché mi tieni in dell'angoscia e io coscia 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 bello bello poi arrivava lui e faceva amor ancora ancora t'aspetto e io bello bello anche divertente simpatico bravo mi sembra una cosa molto bella l'ecologo bravo visto che l'orecchio non funzionava ci pensava lei anche perché signora Rosa io sono abituato io sono abituato a lavorare da cantieri sono abituato a lavorare cacariola cacandarella e sudo sudo mi sudo anche l'elastico delle mutande quello del cantiere è un lavoro molto faticoso sicuramente invece mi sudava sulla lingua questo orecchio dice che non funzionava bene prima forse perché aveva aveva la cellulite nell'orecchio che è la cellulite nell'orecchio il cerume il cerume aveva un timpagno spunnato ma che timpagno un timpano un timpano comunque mi trovavo veramente bene fino a quando ognuno a me non ho poco di carusazze carusazze lisce di Catania ce ne sono ragazzi lisci ce ne sono matelici a cominciare orecchio mi senti e io andi 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 ma che sei cretino e io ino ino e io sanno che mi vogliono ma sei proprio un imbecille ino 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 arricchiazzo anche e io azzo 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 poi uno più sperutoso perché fa cinghia che diceva no quello no no in siciliano in siciliano l'ha fatto in italiano l'ha fatto in italiano va bene giusto giusto è molto più è molto più garbato è molto più garbato fino a quando uno di chi devi fare cosa hai che devi dire ma stai risultando è più bestia di quando non pare no come si dice bravo ci sei gioia mia a ricchi parravo gioia mia bestia ci sei tocco non ti dice tutta la tua bravo quando ci vuole ci vuole lei ha perso la pazienza la pazienza ti dà a ridere carusazze se ne ero ridendo invece il sovrattenente non l'ha presa bene il sovrintendente non l'ha preso bene ha fatto un'ammenda io un'ammenda tale non l'avevo visto mai ma dice un'ammenda enorme 350 euro ma la fice fermare e mi ha licenziato quindi lei ha pagato per tutti mi dispiace mi dispiace mi dispiace ma poi sapi signor questa cosa dell'eco io mi ricordo che questo eco fece un libro famoso che era dedicato a lei un libro famoso dedicato a me dedicato a lei ma che dice si che poi fece non magari un film anche un film quindi c'è un libro dedicato a me dal quale è stato tratto un film dedicato sempre a me ma lei me l'ha detto mio cugino è Affio che se l'ha visto su streaming dove se l'ha visto scusi Affio me l'ha detto che si chiama così su streaming che si è visto su streaming in streaming in streaming sul computer sul web streaming chiedo trasformi parole perché è un ignorante ignorante perché è senza scuola lo so è ignorante io invece scuola non è come lei no no non è come me allora se io scuola di un paese me l'hai girato tutte tutte oh signora Rosa le ho fatte tutte le scuole del paese quindi lei ha frequentato tutte le scuole del paese le ho fatte tutte dalla prima pietra fino all'intonaco tutto così ho capito non ho fatte nel senso di frequentate cioè le ha costruite lei perché è capo Carriola le ha costruite le ha fatte lei io ero specializzato in don donaco in don donaco era specializzato lo faceva bene poi chiede un po' così certo sì sì io ho fatto una palazzina a barriera ah qui vicino proprio qui a Catania nella parte alta ho fatto in donaco sì me con il proprietario restavo impressionante addirittura poi io ho affare una poco di palazzo chiesto in Germania se vedi mezza città c'è adesso un uomo d'un dono cioè questo signore col suo in don l'ha fatto una città intera in Germania che la sa senza parole che ci hanno dato il nome del mio in donaco alla città e che nome è? in donaco di barriera ma che dice in donaco di barriera per cortesia perché l'aveva fatto caso no ma che dice in donaco di barriera monaco di barriera monaco ecco monaco a proposito di monaco questo libro questo film parla di monaci questo film tratto dal libro parla di monaci sì sì di monaci che praticamente vivevano in un convento che non era proprio non era proprio ovale era medio ovale era medio ovale non è la forma era medievale dell'epoca del medioevo ecco ecco e in questo convento ci stavano due tante moniche ma ce n'erano due che si ammazzarono tra di loro perché cercavano un libro prezioso che doveva avere la forma di pesce perché si chiamava cefalo no cefalo era un libro a cefalo un libro a cefalo non lo so e di preciso non lo so che non mancava della parte iniziale poi lo trovano e su mangiavo uno è mossa avvelanato mangiandosi questo e mossa tre monaci a questo punto il priore dice questa faccenda non può andare esatto qui che chiamava un monaco ha chiamato un monaco che viene da fuori faceva parte del gruppo dei tech debt un gruppo straniero dei tech debt dei tech debt non lo so forse sì era un gruppo di giovani dei tech debt era un gruppo forse dei tech debt che faceva questo the tech debt questo venne per fare le indagini e scoprire allora era un detective ecco questo è una vecchia le dica bene le cose io capisco altre cose tipo per rimeson tipo per rimeson sì 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 questo venne per scoprire chi era l'assassino beh certo se era detective poi lo scopre nel momento che lo stava denunciando nel momento che lo stava smascherando non ti piglia fuoco tutto commento nel momento proprio niente non ci resta ma potete poi i pompieri da arrivare i pompieri da arrivare i pompieri oh mostro tutti si salvavo solo uno del nome salvo un monaco di nome salvo del nome salvo e drogo viene un titolo nel nome ravola rossa ma che sta dicendo ma che dice ho capito adesso adesso ho capito e avrete capito anche voi lei sta parlando visto che ha parlato di eco di umberto eco grandissimo scrittore che purtroppo non c'è più che ha scritto il libro il nome della rosa no di la rosa il nome della rosa ha dedicato a sua sorella a mia sorella sì io ho una sorella che saluto ciao palmina ma il nome della rosa così si intitola il libro per favore non lo so non lo so però mia cucina è affium mi ha finito questa cosa lei non solo è confuso ma fa confondere anche me che è una cosa veramente incredibile ma secondo me le idee chiare 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 non c'è no io le avrei le idee chiare se voi applaudite siete complici però io le avrei le idee chiare secondo me lei ha qualche cosa che ci sguazzeria nella testa esatto ma sai perché c'è qualche cosa che mi sguazzeria nella testa perché sto accanto a lei lei mi confonde però io sono contento di essere confuso da questo signore anche perché attraverso questa trasmissione vi abbiamo anche raccontato dei nostri inizi datati 1998 22 anni fa allora fermiamoci è arrivato come sempre il momento della prima pausa pubblicitaria ma di nuovo insieme continua restate con noi reggietti di nuovo insieme signor Litterio su TGS e su RTP ormai conoscete benissimo questa trasmissione a casa mia per creare insieme a voi una nuova trasmissione televisiva e come sempre al mio fianco anche oggi c'è la signorina Nadia De Luca signorina buonasera 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 dottor Larosa buonasera signorina sempre al lavoro sempre puntuale io sono nelle sue mani signorina Nadia allora beh ho sentito poco fa il signor Litterio parlare di Umberto Eco sì che io non sapevo che si chiamava Umberto sapeva solo Eco ma lo sa che il professore Eco ha parlato anche di lei perché conosceva eh ho detto anche di lei no ha parlato delle persone comuni che diventano famose grazie alla televisione è vero è vero ha ragione la signorina Nadia come sempre in un suo saggio famoso degli anni 60 pensi ha parlato anche di Mike buongiorno chiedo di allegria esattamente esattamente proprio quello lì perché lo sappiamo bene la televisione è uno strumento molto particolare che può praticamente cambiare la vita di ognuno di noi la mia mamma ha cangiavo signor Larrosa no? povero ieri è povero Arrosa anzi ma ha cangiavo ah sì un po' sì perché prima era povero e non sapeva nulla ora signor Povero io lo sanno tutto e con la televisione tutti vengono a sapere tutto è vero è vero è vero è vero beh se lei permette finite la puntata potrei darle qualche consiglio davvero? sì io prendo dalle sue labbra eh? su come sfruttare in positivo la sua popolarità con il permesso del dottor Larrosa ovviamente assolutamente sì Natia lei può fare quello che vuole quindi potrà farlo alla fine della puntata bene intanto vado a sistemare queste vecchie videocassette sì? va bene ci vediamo dopo grazie signor Littere grazie a dopo che c'è signor Littere? che c'è? in un do paese sono già molto nominato ah sì? lei è nominato sì? ma gente mi ferma per strada addirittura sì? i miei fan di mi fermano aspetta aspetta che sta succedendo? ah sì sì di nuovo salvo Paterina c'è bisogno di nuovo di Nella Rosa del suo soggiorno che stanza è? questo è il salone quindi lei mi sta invadendo di nuovo il salone vabbè insomma che c'è fa? vuole pagare l'avvento? no non lo voglio pagare l'avvento deve fare di nuovo il giudice di pace c'è un'altra udienza però mi stava dicendo questa cosa qua che lei è famosa nel frattempo che salvo Paterina sistema e questo è il bello della diretta questo no stavo dicendo che io sono abbastanza nominato da i miei paesi che i miei fan di mi fermano che vogliono la firma sui fotografi i fan di i fan di i militari che cosa sono? no i fan di chi dica ah i fan i fan ora ultimamente una fan di un'aranciata che cos'è la fan di scusi? eh i fan di singolare femminile ah ho capito una mia fan da mi disse signor Letteri posso avere una sua firma sopra una fotografia sua bello questo è molto bello e ci ho detto certo Gioia che la puoi avere dice però la vorrei questa fotografia di 80 centimetri più 120 mamma mia dice figlia mia io non ce l'ho così grossa non ce l'ho così grande certo la fotografia me la posso fare sviluppare e lo faccio quando me costa costa perché me lo stai chiedendo tocco il cuore dice grazie grazie ma picchietta giù ti devi fare un poster che te lo devi mettere nella parete di fronte al letto così la sera quando ti addormenti al mattino quando ti svegli mi guardi e ti ricredi no mi disse siccome si sfondava l'astra è 80 più 120 preciso preciso le ha dato le misure esatte ci ha metto un dupo e non ne entra il fresco ci dice ma scusa ma picchietta mia ce ne può mettere ma come mi fa andare do coppo lei nessuno ho capito ho capito quindi lei è proprio come dire utile nel momento del bisogno come un buon amico un buon amico ci ho rimasto un poco male di essere vabbè senta però voglio dire ancora una volta lei ha fatto portare qui la scrivania ha fatto portare qui le sedie perché deve fare il giudice ma lo deve fare sempre a casa mia non ne ha fatto a casa con mia moglie lo prego e allora siccome io sono buono siccome io sono generoso siccome io voglio bene a quest'uomo vi presento un altro episodio l'iterio e il giudice di pace oggi ci abbiamo questa udienza è la data di oggi del 2110 ecco qua leggo permesso permesso che cosa che fanno buongiorno lei come entra molto subetane che cosa mi scusi io sono ammato io sono ammato se lei mi fa scattare io ci posso sparare mi perdoni io non lo sapevo ma mi perdoni io sono sua eccellenza lei mi interrompe nel momento che io sto partorendo l'idea di quello che devo fare lei entra occupa il solo pubblico ma ancora non me l'ho occupato ma no picchietta l'aria ora lei ho chiesto permesso per entrare mi scusi io sono sua eccellenza ho capito dico lei è il portiere no sono gli utensi non il portiere non lo so lei è la signora delle pulizie ma che sta dicendo scusi io devo fare una causa qua fate le cause le cause lei non deve entrare lei deve andare avanti c'è una travessa all'angolo c'è Gino usato che è un po' magari se lei va a casa a fare il gelè io non c'è più su un cavallo deve uscire no no che c'entra le cause no no le cause i processi io le faccio io sono il giudice lei io sono lei è PM questo PM che vuol dire pezzi medici che vuol dire questo PM questo PM che vuol dire io scrivo lei è il GIP no sogno un zuffo sogno un monolume lei è il giudice io sono il giudice ma mi perdoni ma la vestito così io come la devo riconoscere non ha la toga non ha niente non ha la toga mi perdoni entrando non ho capito mi perdoni senta ora ci siamo scusi che cos'è questa questa è la toga lei se l'ha vista delle film questa è la toga lei per rimesso se l'ha visto sì l'ho visto e questa è la toga la toga di Zorro lei c'ha perché di Zorro c'è la zeta dietro stampata mi scusi ma c'è la zeta no perché siccome la satta che me l'ha fatto io di Bologna e pide io sono il giudice va bene mi scusi eccellenza io non lo sapevo che lei è il giudice vedi che ora sta macchando bene mi perdoni come mi chiamai eccellenza bravo devi insistere così allora eccellenza guardi io ho un problema infatti ho portato mia moglie qua lei denuncia la moglie denuncio mia moglie perché mia moglie mi tradisce mi tradisce sicuro sì sì mi tradisce sicuro sicuro quindi di conseguenza io ecco un nodo no che c'entra no 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 che c'entra scusi non lo confondiamo perché sua moglie la tradisce a lei mia moglie mi tradisce sicuro cobulo sicuro matematico matematico e allora ecco un nodo ma che c'entra lo dice la legge la parola scendita ma mi scusi ma non può offendere lei mi perdoni non vuole scritto ma no c'è un disegno un barriconna su ma che significa mi scusi voglio dire mia moglie mi tradisce quindi io di conseguenza sono il leso io sono leso minchia con nude il leso mi sta dispiaciando che cosa ma che conne è leso chiave sono leso della parte lesa chiave la parte lesa allora per forza sono i ghiere non ha capito non lo stiamo capendo completamente proprio dico io sono il leso perché mia moglie mi tradisce e quindi io l'ho denunciata capito mia moglie mi tradisce con i suoi amanti non so se con quello a tradire con questa sora con i suoi amanti no no con i suoi amanti ah perché c'è n'ha più di uno e e e quanti c'è n'ha cinque amanti che in quanto tutti andano a vota no non fanno una monsettata no uno al giorno lunedì martedì mercoledì giovedì e venerdì uno al giorno togliela noi e detonna ha capito io faccio il rappresentante non ci sono mai a casa da lunedì al venerdì e lei si dà da fare hai capito io quando sento ma io ci rugno poi lei non mi dicesse di essere clemente grazie io ci rugno una stancata a sua moglie che io ho prurito ci faccio passare per sempre grazie eccellenza la ringrazio lei non mi dica di essere clemente ma assolutamente no io sarò pesantissimo bravo guarda io tre volte l'ho portata davanti ai giudici tre volte sempre assolta vuol dire i miei colleghi si hanno fatto corrompere tre volte stavolta sua moglie andrà un demurro di cemento grazie eccellenza non dovrei dirlo perché non si dicono queste cose ma io guardi casugno oro zecchino io sono olocolato sto dalla sua parte grazie ce lezzo io sogno abbiato cabana grazie lei poi mi darà se io rispetto perfetto ci faccio dare un vitalizio ma meno male 400 euro al mese ci bastano 400 euro al mese può cominciare va bene ma dove è questa moglie è qua lei prima cosa deve fare andiamo a fare la scheda allora 21 ottobre che è oggi davanti a me il signor nome sì cornelio no questo chissu saccio non l'ho capito che cosa voglio sapere un nome giuseppe antonino il nome sì francesco cornelio cornelio io mi chiamo cornelio di nome ho battezzato così cornelio galella aveva un d'oristino proprio io sapi io mi chiesto questo passo perché proprio un là un là l'ha dato lui il là l'ha dato lui cornelio e cognome lo cervo se l'hai d'accordo ci metto lo bue no no non sono d'accordo mi chiamo lo cervo ma scusate se mia ci mettiamoci lo bue no no ci mette lo cervo perché io mi chiamo lo cervo sì ma i bue con la nave due lo cervo è ramificato ma non mi interessa mi scusi se mi chiamo lo cervo lei ci mette lo cervo io lo facevo per te fratello non muoio basta allora lo cervo lo cervo ecco lo cervo lei che attività svolge guarda io faccio il rappresentante come le dicevo giro l'Italia da lunedì al venerdì sempre fuori sono rappresentante di cornici 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 io sto corro ci posso mettere sempre con lei qualunque domanda mi faccio il corro poi lei mi richiede come continuare cornici cornici abbiamo anche un'altra attività stai cominciando a scrivere cor un'altra attività che non c'entra niente con le cornici non c'entra è una fabbrichetta che abbiamo qua a Catania sì sì a Catania fabbrichetta fabbrichiamo cornetti cornetti ecco i cornetti cornetti lei è proprio i asti è proprio cornetti e li fa lei? no no io sono sempre in giro a fare il rappresentante no no la fabbrica di cornetti è qua a Catania per i cornetti ci pensa mia moglie esatto perfetto cornetti cornetti gestiti gestiti dalla moglie poi noi facciamo import export li portiamo fuori questi cornetti buttati fuori abbiamo un aggancio fuori li portiamo a cortina sempre a cortina sempre a cortina li portate a cortina da 25 anni da 25 anni assai allora a cortina da un pezzo cortina da un pezzo è all'estero in cornovaglia perfetto ecchietto estero estero in cornovaglia in cornovaglia ma pare caschetta l'abbiamo finita eccellenza mi raccomando mi raccomando lei è in una botta di ferro grazie non si nervosisca no 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 mi scanto mi piglia cunate no no io sto con lei bravo io seguo lei e io sto la sua moglie dove? è là all'ingresso c'era nella sala venga avanti signora venga guarda c'era ognuna stangata raccomando venga ci faccio l'uva ruvizio io sono con lei e lei mi ci faccio passare il cosiddetto prurito il resto i colleghi l'hanno assoltato perché sono tutti venduti buonasera buonasera è sua moglie guardi 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 io però lei scusa non si arrevolava il viso al naso la vuoi capire mi posso accomodare? ti accomodi signora guardi 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 ha visto ha visto mi viene male ma visto a mettere da benissimo signora io ho già preparato la scheda di suo marito ora dovrei fare la sua e ingaceruugna stangata bravo mi raccomando signora mi dia le sue genialità le sue estremità come si chiama lei? Samantha Samantha Samantha? si con l'h? si dopo essa o alla fine? alla fine lei la stava a regolare ho visto Samantha Samantha che mi pensi? l'ha visto l'ha visto l'ha visto come fa così ha fatto con gli altri suoi colleghi ha fatto così ma come si può spogliare si è spogliato con i colleghi no no non c'è ruolo a spogliare no no il giudice di cognome come si chiama lei? Giumenta Giumenta? si da ragazza? no anche ora? certo Giumenta perché a mia da ragazza mi chiamava un puledro e adesso? Stallone guarda 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 ha visto ha visto mi viene male qua allora signora lei che cosa ci ha da dichiarare? ora 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 lei vede signor giudice mio marito dice che io lo tradisco invece non è vero come non è vero? come non è vero? ho le prove ho le prove cinque amanti hai cinque cinque amanti signor giudice posso esporre? esponga lei si che ha da esporre no 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 io devo esporre intanto tocca tocca a me esporre tocca a me esporre espongo il avanti poi aveva una testa e pare che aveva la testa di corno proprio posso parlare? posso parlare signor giudice? io sogno con lei mi raccomando allora caro signor giudice questa mia moglie ha cinque amanti il lunedì il martedì il mercoledì il giovedì e il venerdì da dove vogliamo partire? un anno fa la settimana cotta vogliamo partire da dove? partiamo dal lunedì? a lunga lo confondiamo poi il lunedì mia moglie si vede con l'orologgiaio Ferdinando ma cosa dici? lo ho visti io allora Ferdinando è un nostro carissimo amico di famiglia e fa l'orologgiaio e siccome aveva comprato l'orologio nuovo è venuto a casa a farmelo vedere tutto qua lo volevo fare vedere l'articolo nuovo sì l'articolo nuovo al buio e perché te l'ho fatto vedere al buio? che io vi ho scoperti che eravate al buio assieme avanti me l'ha fatto vedere al buio perché perché? 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 ah ah sì perché scomma l'orologio era fosforescente ecco esatto cominciò a fai chiamare l'allustro e allora ce l'ho fatto vedere al buio ma io mi faccio vedere che l'orologio fosforescente ma come? senta non vuoi chiamare i piccirini ah ma ah lunedì Ferdinando respindo come respindo? respindo va bene passiamo al martedì passiamo al martedì martedì Gianni il postino Gianni che è venuto ogni volta viene a portare i pacchi a casa Gianni il martedì che cos'hai da dire da Gianni? ma 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 caro Gianni Gianni quel giorno aveva sbagliato perché doveva portare un pacco a mia sorella invece l'ha portato a me il pacco non era per me era di mia sorella ma c'entra ma io io ho le foto le ho viste che si baciavano lei dal postino si baciavano ma non è che proprio ci baciavamo signora ti scoppi signora perché 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 praticamente siccome ci dovevano restituire il pacco che non era il suo era quello di sua sorella e allora ci dovevano mettere la frangatura per la restituzione e il postino stava leccando il frangobollo che si che significa? che sa quando andava leccato durante tutti i giorni c'era seccata la lingua esatto e quindi avrà chiesto alla signora ma come tu hai scusi? avrà chiesto signora me la dà una mano con un giallo la signora si è bichinata ma che cosa? lei come mi trovo ne trovo a questi giorni ma certo ma che significa? mi scusi stava dando una mano ma che ci dà la mano passandogli il bacio? senta prego avanti che cosa? come si chiama questo del mattedì? Gianni Gianni rispinto mattedì va bene va bene passiamo al mercoledì ci volemmo passare il falegname il francesco il falegname che cosa hai da dire con francesco che doveva fare l'armadio al muro appunto appunto doveva fare l'armadio al muro è venuto il falegname a casa per costruire l'armadio mi sembra ovvio e perché eravate e perché vi ho scoperti nudi nudi tutti e due dentro l'armadio al muro ma ma beh all'inizio noi non eravamo nudi nell'armadio e che dopo dopo e perché e perché 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 siccome la praticamente praticamente il falegname siccome finiva un armadio si portava nell'armadio per vedere se tutto chiudeva bene se c'era se c'era un po' di luca e siccome lui che non ne fissava io dici signore signore venga a vedere come è fatto perfetto e erano nudi avvintiati dentro l'armadio ma quando sono entrati noi erano no e quindi e c'erano le tarme c'erano le tarme nell'armadio le tarme avevate una fettolina dei taschi non ce l'avevano e quindi i dammi l'hanno assaltata e si mangiava tutti i robi ma che signore basta francesco mi colè di respinto ma come respinto francesco respinto va bene giovedì giovedì raffaele l'idraulico scusa cosa è successo cosa è successo cosa è successo raffaele è venuto che doveva fare la doccia doveva riparare la doccia ecco bene visto che lo sai ti è rotta la doccia e ho dovuto chiamare l'idraulico e perché eravate sotto la doccia tutti e due nudi sotto la doccia ma perché 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 ah perché giustamente scusi le travole che ho finito il lavoro ce lo dovevo dimostrare che la doccia la doccia funzionava esatto e se metto sotto la doccia si metteva che robbia nudo sotto la doccia lui e poi chiamava la mia signora venga qua guarda come funziona e quindi per farmela provare e quindi gli diceva che robbia si è spogliata anche lei per provare la doccia basta respinto respinto raffaele raffaele idraulico giovedì giovedì io sogno collega ma lei ha cancellato già cinque giorni ma io ci stai ranna a mucco ora l'ultimo ci dobbiamo stangata restinto passiamo all'ultimo passiamo all'ultimo santo non è che lei aveva i visioni quale visioni ma io ci ho le prove santo il macellaio santo che porta a casa il filetto santo porta a casa e beh cosa vuoi tu il venerdì cosa vuoi tu cosa vuoi mangiare cosa vuoi mangiare il filetto ecco vedi vedi e io faccio salire il garzone perché tu vuoi mangiare il filetto e che motivo c'era io li ho trovati caro signor giudice li ho scoperti in cucina tutte e due col filetto davanti nudi tutti e due ma è ovvio scusami perché 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 La fantasia mi finiva, signore. Perché? Ah, ecco, perché siccome il gazzone ci stava dimostrando come una ricetta nuova di come si può cucinare il filetto. Eh, va bene, esatto. Con un sugo, con un ragù. E che erano tutti? Perché siccome il ragù stizia, Luca Russo si è spogliato per fare il ragù. Poi chiamava il signore, che signora venga, guarda come si fa. Giustamente direi che il mio macchio è tutto vestito, quando il povero di mio marito lavora. E si è spogliato un'uta macarina. Sì, come si chiama il macchinaio? Il macchinaio santo. Santo, santo, macchinaio, respinto. Pure santo? Respinto. Io non lo so, ma guarda. Lunedì, mattedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Finito? È finito, certo. Allora, ora devo fare un interrogatorio a porte chiuse. Se ne vado di là e chiudere la porta. No, non ce ne è porta, dove vado di là? Allora, si mette la faccia a muro. Dove? Qua? Si mette la faccia a muro, signora. Signora, mi richiesto una cosa. Lei il sabato che fa se vuole abusare? No. No, non è che vuole fare la faccia a settimana cotta. No, no. E allora io sabato vengo e faccio un sopralluogo a casa sua. Ah, domenica si deve abusare. Certo. Domenica e sabato vengo e faccio un sopralluogo a casa sua. Va bene, va bene. Vengo e ci ha messo l'orto. Ah, no, non è possibile. No? No, no, non è possibile perché io abito al secondo piano, non ho l'orto. E ci ha messo i rasti. E non è possibile. Io non ne ho... Non ha basi. Non ha basi. Ci ha messo pure fino al frigiderio. Va bene, va bene. Però? Però? Me lo promette che la seduta è sciolta? Sarà sciottissima, sicuro. Io ci prendo un castiglio e ci faccio l'orto. Va bene, può venire. Può venire. Può venire. Signor Pannelli, può venire. Come andiamo? Allora, la sentenza sarà dura. Ce la facciamo, eh. Ma prima voglio fare un sopralluogo. Eh, dove? Vengo domenica, sabato a casa sua per fare questo sopralluogo. Perché voglio constatare, io voglio toccare... Io sono andato a coccumano, non ho le mie sentenze. Ma scusi, lei viene a casa a fare sopralluogo? Sabato voglio vedere i luoghi degli misfatti. Ma mi scusi. Io voglio vedere sta madre, voglio vedere sta doccia, voglio vedere... E lei fa il sopralluogo sabato? Sabato. Ma io sabato non ci sono. No, perché ci ho chiesto per forza lei. Guarda che lei si fida del macchallaio, si fida dell'edraulico, si fida del falegname, non si fida di Ma lei nella casa mia a fare sopralluogo senza di me, mi scusi. E che ci vuole, non si fida lei di me. Sabato. Ma sabato adesso? Sabato adesso. Ma va bene, ci sono le vacanze di Natale. Sabato sono a casa. Ci sono, si, si, si. Facciamo uno, facciamo uno. Che cosa? Mi ha fatto il trabocchietto. Non lo sapevo. Non lo sapevo, non lo sapevo, davvero non lo sapevo. E come si fa? Come si fa? Ma tu ora hai premura a che fare? No. E allora ci vieni a debanna che ho un camerino con una porzona ribattabile? D'accordo, però si è tutta sciolta, eh. Si è tutta scioltissima. Andiamo. Andiamo. Signor giudice. Andiamo, andiamo. Ma dove state andando? Signor giudice. Mi scusi. Era il giudice di pace. Quindi sempre risate per tutti voi, ma non abbiamo ancora terminato. Dobbiamo dare la linea alla nostra regia. E' tempo di vedere chi sono gli sponsor di Di Nuovo Insieme. A tra poco, ancora qui, dal Teatro ABC. Eccoci qua di nuovo insieme dopo tanti anni trascorsi sui palcoscenici di tutta la Sicilia, anche di tutto il mondo, possiamo dirlo. Allora, signor Litterio, prima di chiudere col momento serio di teatro, mi è venuta in mente ancora una volta quella richiesta che è arrivata qualche tempo fa di un nostro telespettatore che voleva rivivere i suoi esami. Esami. Lei ha fatto gli esami di scuola per entrare come custode al cimitero. Quindi andiamo subito al momento dell'interrogazione. Io quando ho fatto questa scuola serale, c'era anche mio cugino Alfio. Anche Alfio? Ma io domingo all'esame lo hanno ammesso. Addirittura, quindi lei è stato ammesso e il suo cugino no. Io no, io no, niente. Una volta ho avuto un compagno del banco. Sì. E gli dice Alfio, ho pensato che forse quest'anno a giugno mi ha accanto gommone. Eh. E lui dice, beh, perché c'è il cacca in cellulare? Ma che c'entra? Un gommone per caccio. Una barca. Potevano ammettere gli esami. Sì, non l'hanno ammesso. Invece lei è arrivato all'esame. Ah. Però non è andata benissimo. Ah, insomma. Nel senso che c'è stato qualche problema. Ecco, ce lo racconti così sotto finale. Praticamente quando si fanno questi esami da scuola media. Sì. A me chiedo mi serviva. Petrasoro e Cimitero. Sì. Non ho come cliente. Ho capito, l'ho detto. Come custode, lo so. L'avevo già capito. Praticamente c'è il membro interno. Sì. E il membro esterno. Così è a scuola, sì. Che secondo me un membro interno si appassa meglio. A lei dice, sì. Sì, vabbè, non lo so. Comunque il membro interno è quello, il professore della scuola. L'altro è meglio esterno. Quando io ero il primo di tutti, mi hai visto il professore. Mi dice, vabbè, aspettiamo, aspettiamo. Dopo un po', alle otto e mezza suonavo la campana. Vedi che si era più a Porto. Vedi che era più a Porto. Ma facciate questo. Il professore, il membro interno. Sì. Mentre l'avevo, la mia figlia dice, ecco, ecco. Ecco, ecco. Ma per dire, vieni a cacca ora ti abbassavo. Esatto. Minaccioso. 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 Tu devi essere dalla mia parte. Membro interno. Quello interno. Quello interno. Cioè, il professore, un membro esterno, io non l'avevo mai visto mai. Tutto, tutto. Per scendere a una radaccia già vuoi fare un salto. Piccolo. Sì, Nicolo. Si parli tutti e due. Mi faccio il chicerissimo di mia. Mi faccio una domanda facile facile. Ci faccio una domanda di storia. Mi parli della Macedonia. Bellissima domanda, eh. Bella domanda. Ma che c'entra? No, no, no. Invece è una bellissima domanda. Ma che devo fare io? Ma che c'entra? Vada, vada, vada. Vedi che ci si guardi. Di solito si comincia con i pere, con i banani, con le... Che andavo una manata, mi interrompivo. Mi dissi, io sto parlando dell'antica Macedonia. L'ha voluta aiutare. Bravo. Antica Macedonia. Io un poco mi ammaraggiai. Cioè, guardi, che io sappia, un maraschino c'è stato sempre. Ma che dice? Ma che dice l'antica Macedonia? La Macedonia, il maraschino, le pere. Come questa cosa. Vedi che mi fai? C'è qualche argomento lei di cui vuole parlare? No, c'è sembra di professore. Io mi affido al... Che poi io non capisco. Ma sono professori di cose che vogliono sapere di me. Ma perché? Ma quando vogliono sapere di cose, studiati. Non mi fai domanda niente. Ma che c'entra? Sono professori appunto perché devono interrogarla. Non è che vogliono sapere da lei le cose. Le sanno. Vogliono sapere se lei le sa. Eh, io non lo so. Non lo so. Se metta le armi a fare. Allora, scelgo io, scelgo io. Va bene. Dice, mi parrasse, mi parrasse di 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 di... Ulisse. Ulisse. Bello. E dice, parrasse. No. E lui mi fa, Ulisse. Ulisse. Ah, ci si dicisse. Sì. Mi fa, Ulisse, l'eroe dell'antica Grecia. Quello. E io, quando si dice che è una fortuna. Bravo. La sapeva. Non me l'avevo studiato così. Sì. Non di poco serioso io. Sì. Ma l'avevo studiato manco dieci giorni prima. Quindi l'aveva fresca fresca. Fresca andata. Ah, signor. Ah, beh, ha fatto bella figura. E dopo che io mi pigliai la licenza. Bravo. Che ha risposto? L'italiano. Poi ci disse, Ulisse era un grande eroe dell'antica Grecia. Piii. 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 E' già un cuncaio. La partenza è perfetta. Il verice dice, ma questo mi pare che ce l'ho detto io. Io l'ho anche pure dire che sono il professore pure io. Bravo. Bravo. Dice, vada avanti. Vada avanti, sì. Ci disse, Ulisse... Ulisse partecipò... Era un eroe che partecipò alla famosa battaglia. Sì. Alla famosa battaglia con tutto l'esercito dei Greci per conquistare Troia. Giusto. Bravo. Caro, se non fu Troia che si poteva conquistare. No, 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 no. Se lo dice così è brutto. Non fu città di Troia che si poteva conquistare, come dice lei. Ci hanno dovuto mandare 50.000 soldati. 50.000. E non ci ha bastato. No. Niente, fin quando Ulisse era un figlio di Tappanaro. Sì, era un uomo molto forte, Ulisse. Per bandi. Per bandi. Per bandi. Sì. Ci ha buttato un cavallazzo di legno. Certo. Bravo. Ci ha fatto che era un dono degli dèi. Ma i dèi avevano un cavallazzo di legno. Ma allora credevano a tutte queste cose. Erano pagani. Erano pagani, sì. Vedi, di Giocavaggio. Io gli chiuso dentro. Durante la notte. Viglio e niscero. Sì. Di un niscero. Di un niscero. Io non lo... Lo spottello era chiuso. Chiuso era lo spottello. Fermo. 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 Vabbè. Sono usciti. Sono usciti. Ammazzare i sentinelli. Hanno aperto le voce. Ci sono trasera tutti i greci. E certo. Questo era il piano. E così solo potrò conquistare Troia. Vero, vero, vero. Bravissimo. Conquistata Troia. Dici, ora ci ritiriamo che siamo vittoriosi. Vittoriosi. E cominciarono a raccogliere tutti i feriti, tutti i sopravvissuti. Tutti. 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 C'erano tutti. Mancava il grande eroe Peseo. Solo Peseo mancava. Un è Peseo. Un è Peseo. Un è Peseo. C'era un mucchio di morte, perché morte non si contava. Tante, tante. E in questo mucchio di morte c'era uno che si muoveva. Sì. E allora, come ho visto muovere di lontano, ebbero la speranza. E ci gridarono, sei Peseo? Eh? E dici, sei trentaseo. Sì, va bene, va bene, va bene. E morì. E morì. E morì. Era Ulisse con i suoi uomini. Perché era di una regione. Era di una regione. L'isola dove doveva tornare Ulisse si chiama, aiutatemi, Ita? Ita. 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 Lo sanno, certo, sono andati a scuola anche loro. Perché non c'erano stato. E ho capito, Ita, sia preciso. Solo che siccome lui aveva progettato e fatturito l'idea del cavallo. Sì. Che era l'inganno. Sì. I dei e Giove. 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 E gli dice, io ti punisco. Sì. Tu non tornerai a casa come vorresti. È vero. Ma ci tornerai che dovrai givograre per dieci anni il mangumangusare. Girovagare. Giusto, anche questo è giusto. I due pezzi, pezzi a bussola. Sì. Sì. E cominciavano a girare. Giravano come un tuppetto. Sembra torno allo strato. E c'è. E c'è. E c'è. che poi si sa come fu. Puglia e passò davanti alla parte di Ace Castello, di Ace Trezza. Anche questo è vero. Giove. 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 Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Ai tempi di Ulisse non c'erano le pizzerie e i ristoranti. Giove. 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 Ma l'abbiamo davanti ad una grotta. E' una grotta davanti ad una grande porta enorme di una grotta. Giove. 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 E gli figli di tappanare. Giove. Nessuno. Giove. 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 Anche a sera per questa volta era un gigante, ma non finiva mai, grazzato, ma se io ti domando chi sei, perché mi risponde nessuno, se sei nessuno non mi potevi rispondere, che non c'è nessuno, che mi vuoi dire con questo nessuno quando c'è qualcuno, che mi vuoi prendere in giro? Era uno sghezzo, che fa, non puoi chiudere l'occhio? Ildo ne aveva uno solo, e io senti un picchiato più fissa, che chiamano una patata, ma meno male che Ildo si spostava. Perché lui all'interno era monoculo. Tutti siamo monoculo. Che vuol dire? Mono uno. No, io ce ne ho due occhi, lei ne ha due occhi. Monoculo? No, monoculo, monos oculos, lui aveva un occhio solo al centro. Perché non parlo tedesco completamente. No, perché fa perché è latino. Basta, poi fece un'amicizia perché Ildo ci ha fatto assaggiare un vino, ci ha pestato l'ua, a Ricina, ma vuol dire la cosa? Ildo subito, io ci piacevo, che bravo, ricordo, visto che mi stai fatto assaggiare questa cosa bella, ti mangio per ultimo. Per ultimo. Ildo però che era troppo bella, organizzavo la fuga, scappavo, mentre correva lontano, qui Ildo che la faccio. Sì. Perché non parla cosa d'un miscino. Ildo pegava un stuzzicadente, gli acciuzzacavo una... A questo qua. Sì. Ildo Polifemmo. Come? Scusi? Sì. Si chiamava Polifemmo? No, 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 no. No, 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 no. Mi sta a storia, ora vuole accettare la storia. Se deve fare gli esami e quindi rispettare la storia, deve essere preciso. Ora vuole accettare la storia. No, 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 si chiamava Polifemo. No. La storia io la conosco. Lui si chiamava... Allora se la conosce mi diceva... Lui si chiamava Poli. Poli. E basta. Sì, sì. Di Picciriddo si chiamava Poli. Però era troppo veloce, era troppo, Monello. E sua mamma, tutto io, polifremmo. Ma che dici, polifremmo? Polifremmo, e il peccolo c'è restato polifremmo. Vabbè, polifremmo, vabbè, come dice lei. Figliavo tre faracoglioni. Tre faragnoli. E ci pigliavo. Tre faragnoli. Perché lui sentiva la nave dove è, ha un angaglio, che ancora su già. È vero, sono ancora là. Sani e chieni saluti, che ci vuole andare, li può vedere. Poi Ido finalmente tornava a casa, dove c'era sua moglie Peneppole. Sì, Peneppole. Peneppole o Penespole. No, no, Pene-lo-pe. Pene-lo-pe. Che lo aspettava, perché aveva la casa piena di guerrieri froci. Senta, per favore, per favore, guerrieri proci, proci. Ido ci disse, appena finisce la cuvetta, mi sposa. Allora che fai, io non cusevo, perché quelli andavano a controllare. Io non te scusevo. Perciò io gli senti, Gioia, ma che ci stai prendendo per i fondelli? Finisce, non finisce, domani ti devi scegliere un sposo tra di noi. Gioia era preoccupato. Perché? Perché siccome aveva un figlio giovinezzo. Sì, vero. Che si chiamava Telecom. Sì, si chiamava Vodafone. Ma che dice? Si chiamava Telemaco. Stuga Russo, con tutti questi froci. Telecom. Non è che mi diventa Gaglio Madalino. No, no, no. Non ha importanza, però. Certo che non ha importanza, per carità. In quel momento torna Ulisse, travestito di Mendecano, che lo riconosce solo il suo cane Arco. Vabbè. Ma poi prendevo l'arco, per sbaglio prendevo il cane, perché si chiamava Arco. Perciò, mi chiamava Arco, mi chiamava Arco, mi chiamava Arco e attraversò 12 anelli per ferro. Ammazzavo tutti i guerrieri e tutti vissero felici e condensi. Ah, signor Rosa, arrestavo senza parole. È vero. Mi disse, se ne vado. Se ne vado. Lei è promossa. Esatto. Non mi riremo in più. Per levarsela davanti. Va bene, va bene. Finiamola qui. Va bene. E finiamo anche qui questa puntata, che è andata bene, quindi non la voglio complicare ulteriormente. Abbiamo terminato. Abbiamo finito. Quindi che facciamo? Ora che facciamo? Chiudiamo di nuovo insieme. Di nuovo insieme. Come sempre, come sempre. Chiudiamo di nuovo insieme. Come ogni sempre. Io la accompagno con qualche nota oggi di nuovo siciliana. Io vado, dottor La Rosa. Buonanotte. Buonanotte, Nadia. Ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Lei cosa fa? Mi fermo. Tanto domani. Può essere che a stanotte dormo qua. Va bene. Buonanotte, allora. Buonanotte. A domani. Sai cosa leggo stasera, Salvo? No. Leggo un brano, un passo tratto dalla scuola delle mogli di Jean-Baptiste Poclain in arte Molière. La scuola delle mogli è la storia di Arnolfo, questo vecchio, questo vecchiaccio, cattivo, arido, sporco, che vuole, avendo terrore del tradimento, avendo terrore delle corna, si fa affidare dalla madre una bambina di appena quattro anni e avuta la porta subito di corso in un convento di Moneche e lì la fa crescere all'oscuro di tutto, all'oscuro senza saper leggere, senza saper scrivere, all'oscuro della vita, all'oscuro dell'amore, di tutto. E poi un giorno lui, vecchio, lercio, sporco, miserabile, si dichiara con il suo decalogo del matrimonio. E così dice, brava Agnese, brava, brava, ho saputo da Giorgina, che era una delle serve, Giorgina e Alano erano i servi custodi, ho saputo da Giorgina che vi siete comportata bene, brava, Il vostro gesto, Agnese, ovvero sia il lancio della pigna che ha sistemato per sempre quel seduttore che aveva tentato la vostra innocenza, mi fa capire che ora siete assennata, giudiziosa e quindi pronta alle nozze alle quali io vi preparo. Agnese, voi dovete sapere che a mia, e vi potete magari informarmi, no, per allaggarmi la bocca, a mia mi voleva donna Rosina Crocella, baronessa di rango, e dovevano dire feud, case, palazzi, bestiame, ma io niente, niente. Questa un giorno purtroppo si avvelenò, per amor mio, con l'acchetto muriato. Dico, Agnese, a mia mi voleva la bella Adelaide, figlia del marchese Zulì, padrone di mensa palaunia, beh, frutteti, ficheti, arance, limone, mandarini, agrumi, agrumi, anche agrumi, aveva anche agrumi, ma io niente. Questa, per amore mio, si togliò le vene. Agnese, a mia mi voleva donna Maddalena Isgro, oggi, beata Maria Teresa delle Orsoline, badessa del commendo di Bronte, che vuole dire, su pace mi ha visto un regato di pestacchio, ma io niente. Questa fu la più disgraziata di tutte, perché prima si avvelenò con l'acchetto muriato, per morire, per amore, per mia, ma ci fichero subito il lavaggio gastropico e la salvarono. Ma nello stesso ospedale, appena dopo il lavaggio, lei aprì gli occhi, a mia, pensò, e immediatamente pigli e sovottagli alle vene, che poi ero con io, scunghi, ruta, ma tu ti tagli i vini all'ospedale, ti tagli i vini. Dovete due medici, che ci fuori immediatamente, ad Angorio ci fichero due fili di retepunto a croce, nei possi, e quindi non potendo morire di morte violenta, ebbe ad accontentarsi di morire consunta per amore mio. Ebbene, Agnese, oggi, tutti questi fantasmi che ci sono nella mia vita, io li deteco tutti a voi, Agnese! Per cui oggi voi dovete benedire cento, mille volte al giorno la vostra buona sorte, che mi ha fatto incontrare un uomo buono, un uomo generoso come mia, un uomo che vi ha tolto dall'infima condizione di contadina in cui vi trovate, per innalzarvi al rango di borghese e onorata Agnese! Io vi farò gioire di tutte le gioie del talamo e dell'amore, e oggi è una grande conferenza che vi sto facendo con questo matrimonio. Voi, Agnese, godrete di tutti i bachi e di tutte le carezze che vorrete, senza pagare niente. Ricordatevi, Agnese, che il mio amore è sacro e che io ve lo fido in un piatto d'argento. Avete sapere che l'uomo e la donna, Agnese, sono le due metà che compongono la famiglia. Voi siete la mia metà, io sono la vostra metà e tutte e due le metà formano la metà. Ne manca sempre metà, ma non ha importanza. Quindi noi due, al contrario del capitano che comanda il prete, della madre superiore che comanda la monachera, noi due, invece, Agnese, ci divideremo i compiti. Faremo che io comando a voi e, giustamente, voi obbedite a mia, al sesso femmina obbedienza, al sesso mascolo onnipotenza. Quando io vi guardo, voi dovete sempre calare l'occhio in terra. Potrete essere libera di uscire da casa ogni qualvolta che vorrete. Basta che ve lo dico prima io. Agnese, ricordatevi che all'inferno c'è l'acqua calda, pesce greca, carbone fumoso e spiriti ardenti. Ora alzatevi, fatemi la riverenza. E mentre io mi preparo per andare dal notaio, per finire il contratto di nozze, voi ripassate mentalmente tutte le regole del matrimonio che vi ho testé, dettato. Grazie. Eccoci qua. Arnolfo. Eh sì, regole del matrimonio. Vabbè, grazie Enrico. Andiamo a chiudere la puntata come sempre presentandovi i protagonisti anche di questo nuovo episodio di Di Nuovo Insieme. Vincenzo Volo, eccolo qua. E poi la mia collaboratrice personale di questa seconda edizione di Di Nuovo Insieme, la nostra Nadia De Luca. E come sempre nella doppia veste di Litterio e di Enrico Guerneri, Enrico Guerneri Litterio. Grazie. Signore e signori, salvo la rosa. Grazie. Linea proprio a lui, a Litterio Scalisi, per chiudere alla sua maniera. A mia, dice Litterio, i urni mi chiove, mi scendica. Buonanotte. Ciao. La mia, dice Litterio Scalisi, la mia, dice Litterio Scalisi, c'è chi sbatte per il mutuo, c'è chi sbatte per il mutuo, c'è chi sbatte per il mutuo, c'è chi ricco e meruto, c'è chi va dallo psicologo, E poi? C'è chi si penti e si fa a Monaco, C'è chi si penti e si fa a Monaco, C'è chi si penti e si fa a Monaco, C'è chi si fa a benzina, c'è chi si ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto a mia, tutti! A mia, vai! Unni mi chiove, mi scendica. A mia, mi rilassa la musica. Dici un proverbio a cotta e rupa rupa, C'è chi va a domenso, piega, non c'è guppa. E canto a mia, unni mi chiove, mi scendica. Oh mia, a gentilossa san rusica, Sogno tranquillo e faccio una bella vita, Straiato sui come una zazzamita e canto a mia, Dove mi piove mi scivola. Grazie! Buonanotte! Buonanotte!